Campagna abbonamenti calcio mercato è l'imminente avvio del calcio che conta naturalmente. Manca poco più di una settimana, le soldi del Barletta nel campionato di eccellenza domenica 25 agosto al Delidio di Biceglie contro l'Unione Calcio. Siamo una squadra che è partita prima, guardate io faccio i complimenti ai direttori perché abbiamo messo insieme l'organico prima di tutti forse in categoria e forse anche prima di alcune squadre di serie D. Quindi la squadra è pronta, è pronta a affrontare questa avventura, ripeto sarà una battaglia, non sarà facile vincere a Biceglie ma sicuramente la squadra ce la metterà tutta. L'avvio del campionato è tutt'altro che soft, dopo l'Unione Calcio è con Molfetta e Canosa in successione il Barletta, non può giocare a nascondino. Penso che siamo la squadra favorita, poi il campo chiaramente dovrà darci ragione, ci vorrà sacrificio, spirito di squadra, unione che spero che venga, un po' di fortuna pure che venga da nostra parte. Capitolo mercato, arrivare a un altro centrocampista senior? Forse. L'organico è al completo, però se dovesse venire all'ultimo momento fuori qualche giocatore che ci può far fare la differenza, ben venga, però ad oggi crediamo una squadra sia completa. Partita ieri la campagna abbonamenti, l'idea iniziale era quella di evitarla, poi... Noi abbiamo aderito alla richiesta dalla maggior parte dei tifosi che volevano la campagna abbonamenti, tant'è vero nella prima ora già abbiamo avuto più di cento abbonati che quindi fanno capire l'entusiasmo. Quindi nessun dietro front. Per quanto riguarda il prezzo siamo più bassi dell'anno scorso, abbiamo inserito adesso nell'abbonamento anche due squadre, due partite della Coppa e daremo un gadget agli abbonati dell'anno scorso che sono rimasti delusi. Io li voglio incontrare uno per uno per spiegargli che noi vogliamo fare bene. Lo scetticismo di parte della tifoseria post-retrocessione c'è ancora ed è per certi versi comprensibile, poi come sempre sarà il campo a parlare dal 25 agosto naturalmente. Ripeto lo slogan giudicateci per quello che stiamo facendo, saranno i risultati a darci ragione o torto, la legge del calcio e la legge del lavoro noi stiamo lavorando per portare il balletto a certi livelli. Grazie. Grazie. Grazie.